Ciao amici nuovo video, amanti di Topolino e non, benvenuti in questa recensione di una storia che uscì esattamente 20 anni fa, il 2 gennaio 2001 e ringraziando il forum del Papersera che mi ha ricordato questa bellissima storia con una grandissima particolarità. Guardiamolo meglio insieme. Ed ecco il volume, ringrazio ancora il Papersera perché per quanto non sia iscritto al forum risulto essere un utente attivo anche solamente leggendo i vari articoli e grazie a loro mi sono ricordato di questo volume che è il primo del terzo millennio. Qualcuno dirà, ma Zio Alen, siamo già nel 2001, siamo il 2 gennaio 2001. Esatto, ma il 31 dicembre 2000 è stato l'ultimo giorno del secondo millennio. Questo Topolino è il primo numero che fa parte del secondo giorno del nuovo terzo millennio. Ma la particolarità non è solamente questa, anzitutto la copertina bellissima, da un'idea di Artibani per un disegno di Mastantuono molto carina. Tra l'altro Paperi in comete e stelle, mentre i Topi qua in primo piano bellissima. Ma la storia che voglio parlarvi è al suo interno. Di Paperone è l'incredibile avventura di Capodanno. È una storia bivi di Alberto Savini, un autore che ahimè non conosco, e che faceva parte di quella schiera di autori del 2001 sotto Claretta Mucci come direttrice. Tra l'altro fu la prima donna a essere direttrice ed era il suo secondo anno di mandato. Perché poi fino al 2009, quando poi subentrò Valentina De Poli. Ed è una storia dalla doppia particolarità. Mettiamo anche dalla tripla. La prima perché parliamo della prima storia di Topolino del nuovo millennio, come già vi ho anticipato. La seconda è perché è una storia bivi. Dura 42 pagine e ogni pagina è un bivio. È una scelta, è una decisione. E grazie alle didascalie poste in basso a destra, sotto ogni pagina troviamo le indicazioni su dove poter andare in base alle nostre scelte. E la terza grande particolarità unica nel suo genere è che ogni pagina è realizzata da un disegnatore differente. Avete capito bene? Abbiamo 42 pagine per 42 mani differenti, 42 disegnatori totalmente differenti. Passiamo da Gula a Chierchini, ad Asteriti, a Massimo De Vita. Tra l'altro le prese con i paperi che non vedevamo da vent'anni a questa parte, guardando il 2001. Ma abbiamo Ancamendola, Coppola, Soldati, Pastrovicchio, Gervasio, Panaro, Cavazzano, Intini, Faccini. Insomma vi farò più vedere la schiera di autori. La storia narra di Dio Paperone che accidentalmente non riesce più a entrare nel deposito e quindi dovrà prendere una serie di scelte sul da farsi. Per esempio potrebbe addirittura puntare come scelta, anche se non vi sto a dire se è quella corretta o meno, di scassinare il deposito oppure andare a cercare il telecomando oppure ancora di chiedere ad Archimede un'invenzione per aprirlo oppure di chiedere ai Bassotti di affidarsi alla mafia, tra virgolette, cittadina pur di aprire il suo deposito o di affidarsi al buonsenso di ricercare appunto il telecomando o di cercare un modo alternativo per entrare nel deposito. Io non vi dico altro ma vi ripeto ogni pagina è un livello, 42 livelli, 42 pagine disegnate in maniera tra loro differenti. Tra l'altro è una storia che ho avuto difficoltà ad arrivare alla fine vista la sua complessità e visto che le scelte tante volte non devono essere solamente date dal buonsenso ma anche mettonosi nei panni di Paperone perché Paperone non sempre è disposto a sganciare soldi quanto però non sempre è anche disposto a dare rete ai suoi amici quindi è una storia che io ho avuto difficoltà più volte tanto che sono tornato dall'inizio per come sono le storie vivi per circa 3-4 volte soprattutto all'inizio non capivo bene quale sarebbe stato il concetto e quindi poi una volta che ho capito mi sono messo a giocare con i vari livelli. Io comunque li ho letti tutti, penso perché comunque per arrivare ad ogni livello bisogna arrivarci tramite le scelte che fai e ovviamente vi è poi anche la soluzione a pagina del livello 41 eccola qui per arrivare alla giusta soluzione bisogna arrivare a tutti questi livelli è incredibile, vero? E questo poi è l'augurio per uno spagnolo 2001 firmata da tutti gli autori presenti in questa storia e per avere un panorama più preciso eccoli qua nomi e numeri perché questa storia di Alberto Savini con la tavola introduttiva di Cavazzano che poi comunque si riprete anche nella tavola 19 troviamo tutti questi autori guardate Scala, Mastantuono, Freccero, Zironi, Perina, Vianne, Celoni, Sciarrone tutti quelli che ho anche nominato prima una storia bellissima io do merito a tutti perché voglio dare merito a qualsiasi disegnatore che ha creato questa storia perché comunque si nota la differenza di stile ora non so chi siano onestamente ma a livello 35 troviamo a disegnare la pagina il signor Andrea Freccero mentre al 36 troviamo Asteriti oppure ancora al 37 troviamo Francesco Guerrini insomma stili totalmente diversi tra loro ma io voglio fare un applauso, voglio dare un encomio ad Alberto Savini che è riuscito a dare le giuste indicazioni precise regole, comportamenti e stile ad ognuno dei 42 disegnatori è incredibile il lavoro di Savini in questa storia riuscire a creare una storia dando un'idea a 42 disegnatori differenti e facendogli fra loro collimare scegliere, collegare è qualcosa di bellissimo è una storia ragazzi che io vi consiglio se non avete questo numero fatelo compratelo, lo trovate in mercatini a 50 centesimi ma a volte anche a 10 tra l'altro l'ho ottenuto benissimo perché comunque al tempo se ne stampavano tantissimi quindi li trovate vi ricordo anche che al suo interno sono presenti altre storie legate al Capodanno come Topolino Manetta gli ultimi dell'anno Paperino i ricordi istruttivi insomma è un numero che va preso anche per la particolarità soltanto che è il primo numero di Topolino ufficialmente del terzo millennio visto che il 2000 è considerato l'ultimo anno del secondo millennio questo per la matematica che tra l'altro viene anche detto qui in fondo se volete vi leggo cari lettori il 31 dicembre 2000 accadrà di domenica per una strana coincidenza sarà l'ultimo giorno della settimana l'ultimo del mese l'ultimo dell'anno l'ultimo del secolo e l'ultimo del millennio in 24 ore accadranno quello che non è avvenuto in mille anni già perché alle ore 23.59.999 il 31 dicembre l'orologio dell'osservatorio di Greenwich certificherà l'entrata ufficiale nel ventunesimo secolo cioè alla fine negli anni 2000 nonché terzo millennio ragazzi storia bellissima copertina meravigliosa idea di base veramente superlativa e poi è un numero super particolare che uscì esattamente lo faccio vedere anche qua vent'anni fa 2 gennaio 2001 per oggi è tutti ragazzi e ci vediamo alla prossima recensione ciao ciao ciao